Molestava i frequentatori del Parco Pubblico di Via Europa a Montecchio Maggiore con una bomboletta di vernice spray ad intervenire gli agenti della Polizia Locale dei Castelli che lo hanno invitato a fornire le generalità ma il soggetto pregiudicato nigeriano di 20 anni non solo si è rifiutato con atteggiamento di sfida ma ha prima offeso i due agenti e poi opposto resistenza ferendoli. A seguito della perquisizione personale gli è stato trovato addosso un coltello a serramanico di 10 cm che è stato sequestrato. Gli operatori sono andati al pronto soccorso per curare le lesioni subite durante l'accompagnamento coattivo ed infine il soggetto è stato denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e per i reati di violenza e resistenza pubblico ufficiale, oltraggio e porto ingiustificato del coltello.